Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist su divisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio a colori solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale come sul secondo mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Cos'è il Sole? Il Sole è una palla perfetta molto vicina di plasma che si riscalda per incandescenza dai campi magnetici della Terra. Viene considerato un plasmoide. Cos'è il plasma? Il plasma è il quarto stato della materia. È un gas sovralimentato. Questo esperimento è stato fatto con l'uso di un microonde, alcuni fogli sottili di alluminio ed un contenitore di vetro. Il plasma può diventare rovente, ma può anche essere freddo. Cos'è un plasmoide? Un plasmoide è una combinazione di plasma e di campi magnetici. Il plasma può essere manipolato in molti modi con l'uso di un campo magnetico e con delle frequenze. Molti scienziati sono d'accordo che il 99% dell'universo osservabile è fatto di plasma. Cos'è un acceleratore di particelle? È una serie di migliaia di superconduttori magnetici dentro un'area molto ampia. Un superconduttore magnetico è un elettromagnete fatto di bobine di fili superconduttori che devono essere raffreddati a temperature criogeniche durante le operazioni. L'HLC comprende oltre 1200 magneti superconduttori. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, ci sono più di 30.000 acceleratori in uso nel mondo. Questa mappa mostra l'ubicazione di alcuni acceleratori di particelle. Un acceleratore di particelle può intensificare il Sole e causare record mondiali di onde di calore? Se il Sole è un plasmoide locale nel campo magnetico della Terra, ebbene sì, può farlo. All'interno del bulbo di questa lampada c'è plasma. Si intensifica quando è in prossimità e vicino al magnete. Ci sono le dimostrazioni che la colpa è degli acceleratori di particelle? Sì! Diamo un'occhiata a queste tre aree sulla Terra con le peggiori ondate di calore nel 2022. E adesso confrontiamo queste tre aree con i più grandi collisori di particelle nel mondo. Questo è un video dell'Africa del Nord del 2017. Si può vedere uno strano evento solare vicino all'acceleratore di particelle nell'Arabia del Sud. Sì! 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 viene richiesta anche la distanza dalla Terra. Luglio 2022, il grande collisore Hadron è stato acceso al massimo livello per la ricerca della materia oscura. Luglio 2022, grandi e persistenti ondate di calore hanno influenzato parti dell'Europa causando incendi boschivi, evacuazioni e morti per il caldo. Per i curiosi e le curiose invito a fare le vostre proprie ricerche sulla pagina Indice Alfabetico di cui trovate il link nella descrizione sotto la voce Sole per comprendere tantissime cose ben differenti da quelle raccontate dalla narrativa ufficiale. Inoltre, per scoprire il plasma, a disposizione avete l'interessante playlist di Brian Austin Lambert 33. Potete accedere anche attraverso l'Indice Alfabetico.